Buonasera, buonasera a tutti e tutte, rieccolo un nuovo video del viola canadese finalmente dopo qualche giornata di pausa natalizia e festiva con solo una live all'attivo nel mio canale e con altre partecipazioni al live di altri canali di cui mi ha fatto molto piacere, sono stato molto 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 contento tra l'altro vorrei ricordare che stasera tra poche ore siamo in live con Leonardo Andrini sul suo canale insieme al grandissimo doge Alessandro Catto, sarà una live tutta dedicata alla Fiorentina quindi non mancate, alle ore 21.30 inizieranno Leo e Alessandro e poi arriverò io dopo lavoro perché come sapete per ragioni di fuso orario io lavoro fino alle 22.30 italiane circa che sono le mie 16.30 Comunque, questo non è un video sulla Fiorentina, è un video, un vlog, il primo vlog sul Canada, avevo promesso di fare dei vlog, sono stato un po' pigro come sempre e appunto lo porto solo ora il vlog, un vlog mobile nella mia pausa pranzo da un lago, fronte lago tutto innevato, un giardino tutto innevato e questo è per fare un annuncio anche ho in mente un nuovo progetto dedicato alla cultura italiana all'estero dove ci sarò io a partecipare e anche altri youtuber che vivono all'estero e lo chiamerò Italia International sarà un canale parallelo anche in inglese, sia in inglese che in italiano e ci saremo in tanti, avrò molti ospiti sia canadesi che americani che italiani appunto soprattutto italiani che vivono all'estero però sarà un canale più dedicato alla società, alla cultura, alla diciamo cultura, oddio, cultura non esageriamo, comunque un canale dedicato a società, costume, un canale più generale ecco in cui porterò anche notizie di calcio però per il pubblico inglese, quindi state stay tuned come diciamo qua, come diciamo noi pagliacci qua all'estero e arriverà presto però questo piccolo vlog sul canale è per dirvi che io sono qua da sette anni, sono arrivato qui come diciamo non una vacanza ma era un working holiday, quindi vacanza lavoro per sei mesi, mi sono trovato bene, avevo qualche soldino da parte, avevo degli obiettivi e mi sono iscritto al college ho studiato qui business administration, una laurea breve di due anni perché qua sono di due e poi quattro anni, quella è lunga, ho fatto un college degree di due anni per appunto business administration, quindi economia aziendale e nel 2016 mi sono laureato e ho iniziato a lavorare, già lavoravo durante la scuola perché qua la scuola costa tanto e perché comunque avevo già 25-26 anni quindi non è che potevo stare con le mani in mano senza lavorare però poi ho trovato un lavoro e una carriera, sono un product planner ovvero un pianificatore di produzione per una ditta che si occupa di materiale per costruzioni materiale per demolizioni, materiale soprattutto per estrazione mineraria vivo nella campagna canadese nella provincia dell'Ontario, la provincia con maggior numero di abitanti, con maggiore popolazione in tutto il Canada siamo a 14 milioni ma io come vedete vivo in mezzo ai lupi perché vivo in campagna la maggior parte della popolazione dell'Ontario si sviluppa nella città di Toronto che dista due ore circa da me guardate ragazzi intanto che panorama vi porto, che roba pazzesca come direbbe il mio amico asso di Roma, ho l'equality quindi se vede questo video lo saluto al buon asso comunque se avete domande da farmi sul Canada come migrare, come venire a studiare, come venire a visitare mandate i miei messaggi, mi potete contattare su Instagram potete lasciare un commento sul canale, sotto il video appunto vi risponderò io qua ormai come ho detto vivo da più di 7 anni mi trovo bene ho appena comprato casa da poco quindi non ho intenzione di tornare in Italia a titolo definitivo per un po' di tempo di sicuro però finita questa benedetta pandemia tornerò a visitare perché comunque io sono un grosso come posso dire un grosso un grande fan della cultura italiana non scambierei la mia nazionalità italiana con niente con nient'altro e sono felice di portare la cultura italiana anche all'estero perché comunque non è vera questa cosa che ci vedono sempre male che siamo mafiosi, che siamo cacciaroni c'è anche questo stereotipo ma ci vedono anche come un popolo acculturato gli italiani all'estero si fanno sempre benvolere e si fanno valere per la loro voglia di lavorare anche quindi non il sottoscritto, no scherzo anch'io e quindi ragazzi questo è il primo di una serie di piccoli vlog vi porterò poi da casa questo l'ho fatto oggi solo così anche per divertimento e per vedere come va io vi mando ragazzi un saluto tornerò a fare video sulla Fiorentina a breve ripeto non scordatevi la live stasera sul canale del buon Leonardo Andreini con anche il grandissimo Doge Alessandro Catto noi ci vediamo per il prepartita di Fiorentina-Bologna o Bologna-Fiorentina in questo momento mi sfugge vi dico forza Viola e anche forza Italia ciao a tutti ciao a tutti